Sarebbe stata prescritta ossigenoterapia a pazienti che non ne avevano bisogno, con relativo rimborso da parte delle ASL alle due aziende che commercializzavano i gas medicali. Sono passati quasi dieci anni da quella presunta truffa per forniture di bombole di ossigeno richieste da ASL pugliesi. Il processo è iniziato dinanzi al Tribunale di Bari, 26 li imputati. La Procura ha già annunciato però che la prescrizione di buona parte dei reati interverrà tra qualche mese e che l'ultimo reato si prescriverà nell'agosto 2018. A processo ci sono nove medici, due infermieri e quindici imprenditori accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale in relazione alla fornitura di gas medicali da parte di numerose ASL italiane. Il danno erariale ammonta 6 milioni di euro. I fatti contestati risalgono agli anni 2007-2009. Le due aziende che commercializzavano i gas coinvolti nell'inchiesta sono la Messer Italia SRL e la Medigas Italia SRL. Dieci gli ospedali coinvolti nell'indagine di cui cinque della provincia di Bari, tre in Salento e il Policlinico Umberto I di Roma. Il processo è stato rinviato al prossimo 16 febbraio 2017 per il conferimento dell'incarico al perito che dovrà trascrivere le intercettazioni. A maggio 2017, tuttavia, come già spiegato dal PM in aula, si prescriverà gran parte delle imputazioni, tranne la presunta associazione per delinquere contestata ai medici e imprenditori ritenuti promotori, che, stando ai calcoli della Procura, si prescriverà ad agosto 2018.